Allora siamo qua a Nalles, è un percorso, la gara di casa mia che praticamente già da 2001, sì, avevo corso qua quasi tutti gli anni, comunque abito a 10 minuti per quello mi sento a casa, un percorso classico e comunque bello duro, bello tosto, però non vediamo l'ora di gareggiare domani. Grazie a tutti.